Radio Radicale, siamo con Renato Brunetta di Forza Italia, economista, per parlare della situazione politica. Mi sembra che dopo la larghissima vittoria del centrodestra in Friuli, probabilmente non c'è ancora una schiarita. Tutti attendono la direzione del Partito Democratico, che probabilmente non troverà un accordo per il Movimento 5 Stelle, mentre Salvini reclama un preincarico e vuole dialogare soltanto con il Movimento 5 Stelle. Allora, mi sembra una situazione difficile che non prevede il voto a giugno. Lei che ragionamento farebbe in una situazione così intricata? Intanto ricordo che Forza Italia non ha mai messo veti su nessuno, né verso il Movimento 5 Stelle né verso il Partito Democratico. E penso che questo sia l'atteggiamento più serio, più costruttivo, più responsabile. I veti li abbiamo subiti invece, li abbiamo subiti dal solo Movimento 5 Stelle, cosa che per noi è inaccettabile, e dal punto di vista politico e dal punto di vista anche democratico. Certamente le elezioni molise, ma soprattutto quelle in Friuli, Venezia e Giulia, hanno dato un'indicazione chiara, che il centrodestra, unito, è vincente, stravincente addirittura in Friuli, Venezia e Giulia. Hanno dimostrato anche il crollo, il tracollo del Movimento 5 Stelle, tanto in Molise quanto in Friuli, e hanno dimostrato che il Partito Democratico non è più in partita. Governava il Friuli, Venezia e Giulia, ha ottenuto il candidato del Partito Democratico, meno della metà dei voti del candidato del centrodestra, Fidriga. Quindi questo è lo stato dell'arte. Quindi vuol dire che il centrodestra, che ha vinto alle elezioni politiche del 4 di marzo, si è visto confermare, più che confermare, il dato di quelle elezioni a livello amministrativo. Lo vedremo poi il prossimo mese, anche con le elezioni delle città, a livello comunale, delle prossime amministrative, si vota in moltissimi centri del nostro Paese. Che fare adesso? Mattarella si è mosso, il Presidente della Repubblica Mattarella si è mosso con correttezza, a nostro modo di vedere. Da un lato, il primo incarico di esplorazione, lo ha dato al Presidente del Senato Casellati, per verificare se c'era la possibilità di un'alleanza o di una maggioranza tra centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Non c'è stata questa possibilità, per la ragione che tutti conoscono, che il Movimento 5 Stelle non voleva il centrodestra, ma voleva la sola Lega. Richiesta improponibile, perché l'alleanza che ha vinto le elezioni è stato il centrodestra. Poi il Presidente Mattarella ha dato l'incarico al Presidente della Camera FICO, che è stato incaricato di esplorare la possibilità di un'alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Ma pare che anche questo percorso sia bloccato per le ragioni spiegate da Renzi, nella sua intervista a che tempo che fa di Fazio, e la cosa sarà molto probabilmente confermata domani, in sede di direzione del Partito. Elaborato il lutto del Partito Democratico... Forse con le dimissioni di Martina, chissà. Chissà. Elaborato il lutto del Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, devo dire, un'alleanza tra i due sarebbe stato uno schiaffo alla democrazia, e cioè formano il governo i perdenti. Sarebbe stato scarsamente spiegabile alla gente, ma chiusa questa parentesi. Adesso per simmetria si dovrebbe passare dalle esplorazioni agli incarichi, ai preincarichi. E l'unico vero incarico o preincarico che poi possa trasformarsi in incarico dovrebbe essere dato al centrodestra, o meglio, al Matteo Salvini che dal centrodestra è stato indicato come candidato presidente del Consiglio. Quindi la strada che io vedrei è appunto quella che prevede per il presidente Mattarella di dare un incarico o un preincarico per verificare se il centrodestra può trovare in Parlamento o tra le forze politiche i numeri per governare, però con un mandato ampio, vale a dire non con il mandato ricevuto dall'esploratrice Casellati, ma con un mandato ampio, e cioè di verificare a 360 gradi se politicamente ci sia la possibilità di una maggioranza. Quindi certamente con il Movimento 5 Stelle, ma certamente anche con il Partito Democratico o in Parlamento, non con singoli parlamentari, ma con gruppi, con aree, con movimenti che sulla base di un programma che il centrodestra dovrebbe ribadire, rappresentare, magari sintetizzare rispetto al proprio, il centrodestra possa interloquire con le altre forze politiche. Lei parla come se ci fosse una scissione imminente da qualche parte, da qualche... No, 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 di queste perversioni, nel senso che le scissioni ne abbiamo subite noi nella passata legislatura sono cose da non auspicare a nessuno, da non subire, da non auspicare per nessuno. Quindi no, assolutamente no. Dico solo che il Presidente Mattarella dovrebbe dare prima un pre-incarico, a mio modo di vedere, per verificare i numeri. Perché io sono d'accordo con la prassi costituzionale che non si possono dare incarichi al buio. Cioè ti do un incarico di formare il governo, se trovi bene, se non trovi, vai sotto e formi comunque il governo, un governo di missionario senza fiducia. Ecco, questo, pur avendo qualche precedente nella storia repubblicana, non è certamente una buona prassi. Mentre una prassi più corretta è dare un pre-incarico, che dura due, tre giorni. Sulla base del pre-incarico, il pre-incaricato torna dal Presidente della Repubblica e gli dice, per tabulas, se ci sono i numeri o non ci sono i numeri. Se ci sono i numeri, quel pre-incarico si trasforma in incarico e a quel punto si fa il governo. Se non ci sono i numeri, la palla torna al Presidente della Repubblica. Lei non teme un anatema di Di Maio che in questi giorni, diciamo, ha chiesto due cose, il voto anticipato e ha minacciato qualcuno dicendo che la farà pagare cara. Adesso non ho capito che linguaggio ha utilizzato. Ecco, allora volevo sapere che cosa si aspetta a quel punto dal Movimento 5 Stelle. Ma vede, gli anatemi come gli ultimatum vanno utilizzati con parsimonia. Se uno dà dieci anatemi al giorno diventano una barzelletta, così come gli ultimatum. Di Maio e il Movimento 5 Stelle stanno diventando una barzelletta. e quindi sono, come dire, in preda molto probabilmente a una crisi di nervi e di confusione mentale. Pace all'anima loro da un certo punto di vista, anche perché Di Maio si è candidato come Presidente del Consiglio. Ha detto che il proprio partito aveva vinto le elezioni. non ha vinto le elezioni e non aveva alcun diritto di candidarsi come Presidente del Consiglio, perché le elezioni il Movimento 5 Stelle le ha perse. Perché col 32% rispetto al 37% il Movimento 5 Stelle le elezioni le ha perse, quindi non poteva candidarsi a nulla. Il Movimento 5 Stelle non è la soluzione dei problemi della democrazia italiana o della governabilità italiana. È il problema. Perché con i loro veti, con il loro opportunismo, con il loro cambiare i programmi a seconda degli interlocutori, diventano veramente il problema per la democrazia italiana. Per fortuna se ne stanno accorgendo gli elettori. Basti pensare a quello che è successo in Friuli Venezia Giulia, ma anche a quello che è successo in Morise. Un tracollo. Stanno diventando antipatici ed è la fine, se vogliamo, di una luna di miele che è durata circa 10 anni. Guarda caso i dieci anni della crisi economica che ha investito il nostro Paese. Non vorrei fare correlazioni troppo, come dire, meccanicistiche, però è un fatto che dal 2007-2008 ad oggi siamo precipitati nella più lunga crisi economica che abbia attraversato il nostro Paese, e il nostro Paese l'Europa e l'Europa l'Occidente e guarda caso l'espansione populista dell'antipolitica ha proprio questa stessa durata. Molto probabilmente le due cose hanno un qualche rapporto di causa-effetto. Per questa ragione io dico che se gli italiani percepiscono o percepissero un segnale di uscita dalla crisi molto probabilmente lo stesso segnale indicherebbe l'uscita o l'abbandono anche del populismo dell'antipolitica del Movimento 5 Stelle. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Renato Brunetta di Forza Italia. Grazie. Grazie.